Riccardo ti voglio ringraziare per questa bella serata che mi hai fatto vivere insieme a te perché è bellissimo il progetto, vabbè io già conoscevo in parte tutto però nei particolari lo sai che non c'è mai il tempo e quindi una buona fortuna, mi sono ricordata quando sei entrato la prima volta in Second Life Riccardo, quindi mi è venuto in mente quelle prime volte grazie, no ma io devo ringraziare, e scusami se ti interrompo, devo ringraziare io te perché te l'ho portato io, te l'ho portato io, te lo ricordo io ho avuto l'onore più volte di essere tuo alunno quindi no no, volevo dire che ti sono ricordata bello dai però le escursioni in giro, non so se ti ricordo sì sì, di cui esiste anche qualche filmato eh come no, vabbè io volevo solo dare buonanotte a tutti, ringraziare tutti per la presenza anche per i vari workshop e di aver seguito anche questi workshop appunto per le attività di Anitel e di continuare a seguire con questo progetto anche gli altri progetti per l'anno prossimo grazie a tutti